Prima partenza dalla 73 Avanti, stata la 3, prima partenza di ascolto Per esercitazione, 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 uscite con module botte Per un incidente aereo all'aeroporto di Fiumicino Per esercitazione, esercitazione, esercitazione Scappa ricevuto, prima partenza, autobot e module in uscita per l'incidente aereo a Fiumicino Sì, affermativo, l'aero è in fiamme e ci risulta V4 A tutti gli operatori predisporti E sulla parte frontale dell'aereo attaccare le piappe Grazie